Oggi si è svolta la prima seduta della Commissione d'inchiesta regionale sui FAS. È stata una riunione molto prolifica con la presenza dell'assessore regionale Gian Paolo Buttacini, l'assessore regionale dell'ambiente e della struttura ambiente della regione del Veneto. Sono ammersi dei punti fermi. Innanzitutto si è fatto ordine su tutto quello che è stato fatto da parte della regione, sia nei confronti dei ministeri, sia nei confronti di altri enti superiori. Poi abbiamo approfondito assieme ai tecnici preposti come sta procedendo la fase di bonifica del sito contaminato della Miteni e infine abbiamo anche approfondito su come la regione Veneto e le strutture intenderanno procedere nel garantire acqua potabile a tutti i cittadini coinvolti e colpiti, soprattutto quelli nella zona rossa. Stiamo definendo il programma di lavoro della Commissione. Sicuramente nella prossima seduta, che sarà come oggi, lunedì prossimo, avremo una seduta speculare per quel che concerne la parte sanitaria, quindi avremo la disponibilità dell'assessore e coletto delle strutture regionali che si occupano di sanità e di prevenzione. Grazie.